E Matera ci accoglie con il sole, amici di Verde a Nordeste. Io ho il piacere di avere ai nostri microfoni il sindaco di questa meravigliosa città. Diamo il benvenuto a Raffaello De Ruggeri. Allora, sindaco, perché venire a Matera? Matera, città patrimonio dell'UNESCO, ma non solo, città della cultura 2019. Beh, partendo dal sole, ripetiamo una frase di Pasolini. Pasolini disse che aveva scelto Matera come Nuova Gerusalemme, non solo per il paesaggio geomorfologico, ma perché qui c'era il sole. Il sole vero, il sole ferocemente antico. Matera è una delle città vive più antiche del mondo. C'è una continuità di vicenda umana in questo territorio che va dalla Selce al Silicio. Sono otto mila anni di storia. È uno spazio geografico che si è fatto storia. È la più straordinaria interpretazione urbana della natura. È un luogo costruito non da architetti o da demiurghi, ma dal popolo. Dal popolo dei capomastri, che attraverso una conoscenza e una sapienza millenaria sono riusciti a comporre la natura in città. Questo è il luogo straordinario, che non è un luogo morto, ma è un luogo in cui, tra memoria e nuova produzione di storia, la comunità percorre tutte le tappe della vicenda dell'uomo. E quindi qui si può toccare con gli occhi e con le mani questo messaggio della religiosità dell'uomo, della capacità dell'uomo di adattarsi a tutte le condizioni della storia, del tempo e del luogo. E qui è il momento anche dell'eroismo e della capacità dell'uomo di adattarsi e di confrontarsi col tempo e con la storia. Sindaco, negli anni 50 i sassi erano stati definiti la vergogna d'Italia, oggi ne sono il vanto. Beh, questa è stata la grande operazione, chiamiamola di socializzazione culturale. Qui è avvenuto un altro miracolo, perché lentamente, attraverso un'operazione di apostolato popolare e di socializzazione della cultura, si è distillato lentamente nelle coscienze delle donne e degli uomini di Matera i valori identitari del luogo. E quello che era frustrazione, rassegnazione, diciamo anche timore di essere rappresentativi della miserabilità del mondo, si è trasformato in orgoglio di appartenenza, il che significa in autostima. Ecco perché la città è lievitata su questo nuovo recupero di responsabilità di appartenenza che lentamente ha trasformato l'orgoglio in momento civico totalizzante e ha trasformato la vergogna in orgoglio di appartenenza. E quello che era infamia nazionale è stato prima riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità nel 1993 e oggi, attraverso questo processo di crescita e di lievitazione culturale, Matera è diventata capitale europea della cultura in rappresentanza dell'Italia nel 2019. Una città aperta anche al turismo, Sindaco? Ebbè, il turismo qui non è un turismo randaggio, non è un turismo di occasione, è un turismo di esplorazione e di conoscenza. Chi viene in questa città viene colpito dal suo magnetismo, dal suo cortocircuito creativo e ispiratore di sensazioni. Io ho portato molte volte queste persone in giro in questa città straordinaria e mi hanno detto che solo qui, pur avendo conosciuto il mondo, avevano avuto tumulti di creatività perché qui ci sono queste sferzate di elettricità che colpiscono l'uomo, che lo riportano nella condizione originaria, in una lievitazione di storie che ci porta al contemporaneo. Grazie al Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri. Amici, l'invito è quello di venire qui a Matera a visitare questa città davvero magica. Adesso la linea va a Padova, ad Andrea Marcato, ma restate con noi perché resteremo sempre qui a Matera. Grazie. Bene. Grazie Sindaco, molto gentile. Grazie. Grazie.